La banca gli rifiuta il prestito e lui si barrica dentro la sua attività commerciale. Accade a Santa Teresa di Spoltore, nel Pescarese, dove Marcello Sborgia, 53 anni, titolare di un'agenzia immobiliare e gestore del punto SNAI Pacundo, a l'ora di pranzo ha fatto uscire tutti i dipendenti sparando due colpi in aria per poi chiudersi dentro. L'imprenditore comunica con l'esterno tramite il cellulare, con sms e post sul suo profilo Facebook. Questa mattina ha scritto, oggi saranno aggiornata particolarmente, puntini di sospensione e poi vediamo. Marcello Sborgia è molto conosciuto a Spoltore, l'imprenditore è uno degli indagati nell'ambito dell'inchiesta relativa all'urbanistica, agli accordi di programma e rifiuti al comune di Spoltore. Sul posto carabinieri e polizia municipale che hanno chiuso al traffico un tratto della provinciale 602, nell'area si registrano code e rallentamenti. Intanto vanno avanti le trattative per cercare di far desistere l'uomo. Il comandante provinciale dei carabinieri di Pescara prova a trattare con l'istituto di credito in questione, per ottenere una dilazione dei pagamenti. E Sborgia continua a scrivere, in un post spiega le motivazioni del suo gesto. Sto facendo una battaglia contro una banca che ci ha tolto la possibilità di poter onorare gli impegni presi, si legge nel post. E sto facendo una battaglia per proteggere i miei clienti, cioè quelli che hanno acquistato casa da noi. Non mancano i messaggi di solidarietà dagli amici, ma anche da estranei che hanno vissuto gli stessi disagi con le banche. Di fronte al centro scommesso e nel frattempo si è riunito un gran numero di curiosi. La tensione è alta, sul posto c'è anche la moglie di Sborgia. Alcuni problemi si sono registrati per gli operatori dell'informazione, aggrediti verbalmente e strattonati, ma si sa, in queste situazioni sono i rischi del mestiere.